Buongiorno e benvenuti a questa è la segna stampa di oggi, domenica 11 giugno. Buona domenica a tutti. In Italia ci sono mille, quasi mille e cinque, mille e cinque comuni in cui si vota. Sono elezioni amministrative, tutti quanti i giornali oggi si svegliano e ne parlano, anche se la campagna elettorale quando si tratta di elezioni amministrative è soprattutto su base locale, non con grandi città fondamentali come Roma, Milano, Torino è in secondo piano. Quindi oggi è il giorno delle elezioni, si vota fino alle 23, alle 23 in punto ci sarà anche ovviamente Matrix nello speciale per vedere come sono andate queste elezioni amministrative. Che un po' di peso ce l'hanno, come tutte le elezioni locali il peso ce l'hanno semplicemente perché ci sono 9,1 milioni di persone che votano e ci sono 25 capoluoghi di province e di regione in cui si vota. È importante capire ad esempio a Genova se il Movimento 5 Stelle superdiviso scomparirà dalla scena, la città di Grillo bisognerà capire a Parma che cosa succederà se invece l'uomo che è stato scoperto al Movimento 5 Stelle, che Pizzarotti è poi espulso al Movimento 5 Stelle e ce la farà e lì sembra che valga l'equazione. Basta non fare male che viene eletto perché questo è il tema di quello che sta succedendo a Parma. Poi bisognerà vedere cosa succede in Sicilia il giorno dopo le dichiarazioni uscite sui giornali di Graviano, se i sindaci di Forza Italia che sono agli arresti o sono stati cautelati come a Trapani ce la possono fare ad arrivare al ballottaggio, vedere cosa succede a Orlando, un signore che nella politica da 5.600 anni rischia di essere di nuovo eletto sindaco di Palermo. Sarà interessante vedere che cosa succede a Verona, in casa Lega, in cui per esempio la moglie di Tosi, la compagna di Tosi sfide la Lega tradizionale. Voi sapete che Tosi non è più nella Lega e quindi ci sarà un'altra partita di quel tipo. Sarà interessante vedere quello che succede in tutti questi comuni per capire se c'è un piccolo segnale politico nella settimana in cui è successo il grande patatrack tra cui quello di quattro leader politici che ci avevano raccontato di aver fatto un accordo per la legge elettorale di andare addirittura a votare il 24 settembre. L'accordo era passato pure per Palazzo più importante in Italia. C'ha ragione Nicoletta Bonazza anche in Friuli, Venezia e Giulia si vota, ma si vota ovunque, si votano in tutte le regioni italiane. In questa settimana caotica bisogna vedere cosa succederà. Nei 25, questo è il numero fondamentale da tenere a bada. Nei 25 comuni capoluoghi di provincia o di regione, cioè i 25 più importanti città, ci sono 15 sindaci del centro-sinistra, 5 del centro-destra, 3 delle liste civiche e 2 commissariati. E poi c'è Lodi che voi sapete è l'unico comune di cui mi occupo perché candidato a Lodi c'è questo ragazzo Lorenzo Mangi che è un liberale a 4 carati o a 5 carati o a 1000 carati, quindi la mia simpatia nei suoi confronti è totale. E' uno dei pochi candidati sindaci, penso, nel mondo che sappia chi è Hayek von Mises Friedman. Vabbè, lasciamo perdere questa nostra piccola campagna elettorale per Lodi e andiamo sugli altri temi di giornata. Vi ricordo comunque che questa sera c'è Matrix e tutti i risultati li avrete in diretta lì. Intervista al Cavaliere, quando il titolo di, mi sembra che sia di Libero oggi, Pietro Senaldi lo intervista, ma non è colpa ovviamente del direttore di Libero. Quando il titolo della prima pagina è Cavaliere all'attacco, beh, si capisce che nell'intervista probabilmente c'è poco o niente. Ma non per colpa ovviamente del direttore, ma intervistare il Cavaliere è difficile per tutti. Anche Renzi, ovviamente i leader politici in Gesine dicono poco, nulla. Una delle cose che dice, mi sembra che riesce Senaldi a strappare a Berlusconi è che, secondo Berlusconi, la colpa dell'inaffidabilità del Movimento 5 Stelle è incredibile e che lui comunque conta sempre di portare questa solida di sbagliamento al 5% perché lui ci tiene. Secondo tema grande di giornata sono i diritti TV per la Serie A tra il 2018 e il 2021. A parte le minchiate, diciamo, populiste come quelle di Paragone che dice il calcio, i soldi, insomma, in questo suo delirio, diciamo, grillino, io lo rispetto, però insomma io le considero da liberista, amante dei soldi, una cosa completamente sbagliata perché in Italia si chiedeva attraverso questa asta dei diritti del calcio di Serie A, di quattrini per pagare poi le diverse squadre di calcio che sono delle imprese come tutte le altre. Beh, si chiedevano circa un miliardo. In UK invece, sapete quando si recupera dai diritti televisivi? Circa 4 miliardi, in Spagna 1,7 miliardi, in Germania, la sobria Germania, 1,4 miliardi. Non mi sembra che la richiesta del Serie A di un miliardo da parte di Infront e di Lega Calcio sia, adesso la dico male, una richiesta esosa da far pensare a questo capitalismo neoliberismo marcio. No, è quello che succede quando si pagano dei diritti per il divertimento che a molti piacciono e poi non è che sia uno di quelli. Si è presentata solo Sky per un pacchetto di 494 milioni, non si è presentata né Mediaset, né Vivondi, né Telecom, né grandi operatori, diciamo alternativi a Sky e quindi la Lega ha detto, c'è un'intervista oggi a Tavecchio, mi sembra, su Corriere della Sera, noi non vendiamo per ora questi diritti, riformuleremo l'accordo. Quello che è evidente, un po' tutti quanti lo dicono, è che in Italia si deve un po' più che riformulare l'accordo per i diritti della Serie A, bisogna mettere d'accordo la grande partita per la pay tv tra Mediaset, Telecom e Vivondi sulla partita non solo per la Serie A, ma per le altre boost davvero onerose, anche quelle che sono per la Champions League di cui si saprà lunedì. Partita complicata che cercheremo di tenere a bada. Questo però è un tema che i giornali oggi affrontano con grande attenzione. Due altri temi che a me sono, mi spiace Milena se si blocca il collegamento sono in questo caso in una situazione di perfetto wifi, quindi mi stupisco. Altri due temi, uno riguarda Novisco, il governatore della Banca d'Italia, e il governatore della Banca d'Italia in realtà in maniera un po' tricchi lo intervistano, ma l'intervista è tricchi perché in realtà è un'intervista pubblica in un convegno che viene poi ribaltata sul giornale, sul Corriere della Sera. L'intervista però, per una volta, il governatore della Banca d'Italia, almeno da quello che ho letto nell'intervista, qualche cosa lo dice. Noi sappiamo che il governatore della Banca d'Italia è specialista nel non dire nulla, non tanto Visco, ma come tutti i governatori della Banca d'Italia. Questi non ti dicono mai niente, non parlano mai, parlano esattamente l'opposto di quello che cerco io di fare con voi, non vi dicono mai che cosa cavolo stanno dicendo. Nel linguaggio effelbato della Banca d'Italia ho letto che Visco avrebbe sostenuto che la direzione generale della concorrenza di Bruxelles, cioè i burocrati di Bruxelles, come lo diremmo noi, i burocrati di Bruxelles, non li ha ascoltati, non ha ascoltato la Banca d'Italia sulla questione dei salvataggi bancari e spesso le loro manovre per tutelare la concorrenza hanno poco a che vedere con la realtà. Questo si tratta di un cazzotto in faccia alla Salvini fatto da Visco a Bruxelles, chiaro? È fatto con il gesto di Bruxelles, è fatto con i modi della Banca d'Italia, è fatto con quella specie di grigiume polveroso che rappresenta l'establishment di tutto il mondo. Ma quando questa roba qua la mettiamo in mano a qualcuno che parla chiaro è un cazzotto in faccia ai burocrati, neanche ai politici di Bruxelles, chiaro? Questo lo dice Visco, quando poi lo dice qualche politico dicono che il solito populismo, se invece Visco lo dice in un festival con la giacca e cravatta anche a 50 gradi, grigia, orrenda, che gli cade male, allora se lo dice lui si può ascoltare e neanche si riesce a capire. Comunque Rosi è passata l'ambulanza perché è nei confronti di quelli che non riescono a capire come un linguaggio normale, forse in questo secolo di Facebook, di Twitter e della rete digitale sarebbe per tutti più comodo. Bello, bello, bello il pezzo di Ernesto Galli della Loggia oggi sul giornale, come sempre i pezzi di Ernesto Galli della Loggia potrebbero essere condensati con 50 righe di meno, tutta la prima colonna di pagina 1 è una premessa inutile, poi però ci sono due condizioni, due situazioni interessanti, dice noi abbiamo un certo senso di colpa nei confronti dei paesi arabi, del mondo islamico, un senso di colpa basato su nulla. Due sono i casi che lui tira fuori, Galli della Loggia, da storico molto interessanti. Primo caso, la persecuzione degli ebrei in quelle zone non nasce con la nascita dello Stato di Israele, come qualcuno scrive, ma sono centinaia di anni che gli ebrei venivano considerati in quelle zone islamiche de paria e quindi quello che lui dice è semplicemente c'è una persecuzione, c'è una persecuzione nei confronti degli ebrei che nasce prima del nazismo, prima dello Stato di Israele e che nasce dal fondamentalismo islamico. Prima parentesi, voi dite che può essere rilevante fino a un certo punto perché riguarda solo gli ebrei. Mettiamola pure che riguarda solo gli ebrei. Seconda condizione, diciamo nostro complesso, perché noi l'abbiamo in complesso essendo la terra dei fascisti e dei nazisti nei confronti dell'antisemitismo, ma forse ce l'hanno ben più radicata gli fondamentalismi islamici. Seconda grande verità storica, guardate, noi ci siamo fatti due palle così con il colonismo, con i negrieri eccetera, ma Galli della Loggia ricorda come tra l'VIII e il XVI secolo d.C. i più grandi schiavisti fossero berberi islamici, non occidentali, non americani, non trafficanti olandesi, non trafficanti inglesi, ma fossero gli islamici ad essere stati i più grandi trafficanti di uomini. Chiaro? Queste sono le posizioni di Ernesto Galli della Loggia, diciamo un po' storiche, molto più specifico invece come sempre Maurizio Molinari che ci spiega che tradizionalmente in Medio Oriente si litiga tra Sunniti, cioè Arabia Saudita, e Shiti, cioè Iran. Beh, adesso quando l'Arabia Saudita litiga col Qatar c'è una lotta tra gli Sunniti stessi, i Sunniti salafiti che sono quelli dell'Arabia Saudita e i Sunniti fratelli musulmani che sono quelli del Qatar. Molto interessante il pezzo, secondo me, Pinella, questa sera le 11 Matrix, e tra l'altro i risultati più delle 11 non ci sono. Quindi se volete farvi una scorpacciata di politica estera, oggi Galli della Loggia e Molinari ve li consiglio. L'ultima questione, voi lo sapete, io sono appassionato delle questioni di Confindustria e i giovani hanno fatto la loro riunione a Rapallo. Mi piace come, forse per un riflesso condizionato, anche le minchiate che dice il Presidente della Confindustria dei grandi, non dei giovani, Boccia, vengono riprese e Boccia attacca la politica e sostiene chi dice fesserie e poi si candida ragionando per titoli. Bravo Boccia! Le fesserie della politica e chi si candida ragionando per titoli. Ma quel titolo del centro studi di Confindustria che dice che se non fosse passato il referendum sarebbero, il PIL italiano sarebbe sceso del 5%, la disoccupazione sarebbe aumentata al 12%, insomma sarebbero arrivate le cavallette. Quel titolo chi l'ha fatto? Confindustria o i politici che si candidano? Le campagne elettorali politiche le ha fatte Confindustria per il referendum o le hanno fatti i politici che ragionano per titoli? Occupati degli affari tuoi, occupati di Ilva, occupati dei voucher, occupati delle aziende che non crescono, occupati del cuneo fiscale, occupati degli affari tuoi. La politica, già c'è i suoi casini, sono sufficientemente adulti per saper badare a se stessi, forse altrettanto non vale per gli adulti di Confindustria. Ragazzi un saluto, vi do l'idea che poi l'abbonino abbia avuto l'applauso, la standing ovation è fantastica dai giovani industriali, mentre invece è casaleggio e raggi sotto, come si chiama, sottotono. Saluti, questa sera alle 23, non perdete Matrix, ciao!